Con la testa ormai proiettata verso il play-off, l'Invicta continua nel suo campionato dei record dove nel fine settimana affronterà la lunga trasferta di Capodorlando contro la Capobasket. Squadra imbattuta nel suo parquet nel big match della tredicesima giornata, dove andranno di scena le prime due della classe. I ragazzi del coach Giuseppe Spena vogliono continuare nel loro trend di risultati positivi e macinare punti su punti. I numeri dell'Invicta parlano di 10 vittorie consecutive in campionato e a due giornate dalla fine della stagione regolare la squadra nissena vuole continuare a vincere e stupire, Capobasket permettento. Basket, Serie D, Girone B, tredicesima giornata. Capobasket, Invicta. Zannella Cefalù, Basket Messina. Sant'Agata Virtus Trapani, Riposa, Leonardo Da Vinci.